Ci siamo quasi tutto pronto. Partiti i cavalli della prima corsa. Leggero controtempo in un muro privato che lascia lì circa tre lunghezze. Davanti ci va subito Always Head, riconoscibile con la giubba blu e cap rosso. Più al centro la pista le due giubbe celesti di Sebastiano Guerrieri, quella di Messera Aprile che si è messo all'avanguardia rispetto a Infrarosso che ne ha preso la scia. Più al centro la pista troviamo la giubba arancio e nera che è quella di Stavo Pensando a Te, ancora più al centro la pista uno dei due dell'Avvocato, vale a dire Lee Way perché Franz è quello un po' più nelle retrovie con un muro privato che è rimasto un po' attardato. Lady of Fire nel gruppo, prima parte di gara che è scivolata via così, Messera Aprile in vantaggio, lungo lo steccato e attaccato a questo punto da Stavo Pensando a Te. Poi prova a rinvenire anche l'altro di Sebastiano Guerrieri, Infrarosso che ha preso la scia di Stavo Pensando a Te, Lady of Fire che è al centro la pista, Always Head che non viene avanti in questa fase. E allora Messera Aprile che ha messo un paio di lunghezze di vantaggio rispetto a Stavo Pensando a Te che comunque sta tentando di ricucire il gap. Si fatica tantissimo ma Messera Aprile l'ha già risolta quando mancano 50 metri dal traguardo, vince facile nei confronti di Stavo Pensando a Te ed Infrarosso. Vice numero 4 dello schieramento 4-2-1 dell'ordine d'arrivo ufficioso numerico probabile Messera Aprile alla seconda vittoria in carriera, si tratta di un figlio di Levie infinite con Cristia Di Napoli in sella. Il training è quello di Sebastiano Guerrieri, i colori anche di Sebastiano Guerrieri, la quota al tot era di 2,93, era la proposta quota fissa, 4-2-1 è il primo ordine d'arrivo da Capanelle per questa giornata. Grazie. 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 Grazie.